la giornata di scuola delle macchinine colorate qui al parco giochi è un vero spasso che capriola il salto della staccionata e vai le nostre amiche spensierate e sembrano in vacanza ma eh sì la campanella della scuola allora entriamo vediamo cosa avete negli zaini ma vi serve altro materiale e allora via con gli zaini le macchinine stanno correndo a prendere dell'altro materiale per la scuola ma bisogna fare in fretta per fortuna alla cassa c'è solo il trattore e allora presto con i carrelli cosa dobbiamo comprare biscotti no pane no ciambelle no che belle matite colorate prendiamole un camioncino ehi ma sta facendo i capricci mele no arance no banane no ecco i libri per la scuola li prendiamo e anche un bel quaderno colorato con copertina rigida sarebbe bello andare a sciare ma è anche bello fare i vigili del fuoco lasciamo sci e racchette e prendiamo i quaderni cetrioli no insalata no e nemmeno i peperoni stupendi questi acquarelli prendiamoli e ora via alla cassa la macchinina blu compra le matite colorate ecco i soldi la macchinina rossa compra i libri ecco i soldi la macchinina verde i quaderni ecco i soldi escavatore e la macchinina gialla gli acquarelli finalmente a scuola con tutto il materiale buona scuola a tutti voi bambini ecco i soldi 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 ecco i soldi